Abbiamo visto Olga Saraduca qua, 12-17 da Malai Balguen. Sì, vado in 400 metri in master, donne nei tre, in pedana. C'è Caterini di Balguen, Colombia per i primi. E così a sette, Matice Tiziana, 5 anni, la meta in testa, dietro Bruno a rimanere in carico di Terenzi, fino a un punto. E applausi della notte per le allerede master del 400. Tiziana, 5 anni, corsia 7, poi la Garibaldi, quindi Germana Terenzi. Rientro da Garibaldi e anche da Terenzi, è una lotta a tre per la vittoria. Vittoria da Garibaldi e Germana Terenzi che dalla corsia 5 passa avanti. Germana Terenzi va a vincere 400 master del collega 1-4-5-8. E' sufficiente l'impegno, rimane 4-14-0-6.